Meglio non guardarlo il calendario, meglio affrontare per davvero il torneo, ormai alle porte, pensando ad una partita per volta, perché il girone B quest'anno è davvero complicato, all'inizio, in mezzo e alla fine, per tutte e tre le compagini salernitane. Certo, l'avvio è davvero in salita, con una prima giornata da brividi e la consapevolezza di non potersi far trovare impreparati davanti ad avversari che hanno sulla carta più qualità e stanno investendo una barca di soldi. Nocerina contro il Perugia, Paganese a Benevento, Salernitana con il Lecce. Ma il calendario varato ieri mettiamolo da parte, perché è il girone che è stato confezionato dal consiglio direttivo della Lega Pro a dover far cambiare la marcia alle società nostrane. Del resto, come si dice, nessuno ci tiene a fare brutta figura, soprattutto quando sai di dover affrontare squadre blasonate, avversari e società forti. Ecco perché Nocerina, Paganese e Salernitana si rinforzeranno, statene certi. I Molossi stanno cercando di arrivare al Sidi Romito, pensando però anche a un centrocampista, anche se il DG Pavarese e il procuratore Grimaldi farebbero bene a pensare di prendere un bel centravanti, uno insomma che la palla sa buttarla in fondo al sacco, altrimenti potrebbero essere dolori. Alcuni ragazzi invece saranno mandati a farsi le ossa in prestito. Pavarese, come detto più volte, non ha fretta, aspetterà per il dopo Ferragosto per agire per bene. La Paganese invece con Dehli in attacco, ha chiuso per i giocatori esterni in prima linea. Forse servirebbe un'altra prima punta, con William del Genoa, che è sempre il calciatore più richiesto, si farebbe probabilmente l'affare giusto. In stand-by la posizione di Hervé del Parma. Il terzino destro è piaciuto in questi giorni a Maurizzi, potrebbe essere trovato un accordo. La Salernitana, in queste ore, a Roccaporena, ha in prova il centrocampista Leon Merito, che l'anno scorso ha giocato con il noto in Serie D. Di sicuro, Mister Sanderra si sarebbe augurato l'arrivo di un calciatore di ben altro spessore. Il nome richiesto alla società è quello di Sassilotto, che il tecnico ha avuto con sé a Latina. Ma la proposta, fatta dal club Granata al Brasiliano, è stata ritenuta dal suo staff insufficiente, non consona alle qualità del giocatore. Grazie. 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 Grazie.